L'Autaro sta trascinando l'Argentina in Coppa America dopo aver dettosi all'ultima offerta dell'Inter per il rinnovo fino a giugno 2029. L'Autaro sta trascinando l'Argentina nella Coppa America in corso di svolgimento negli Stati Uniti. Nelle tre partite del girone, il capitano dell'Inter ha realizzato la bellezza di quattro gol, consentendo all'Albi Celeste di accedere ai quarti di finale da capolista. Il 4 luglio, o l'Energy Stadium di Houston, la nazionale del CT Scaloni affronterà l'Equador. La serie di vittorie è frutto del lavoro che facciamo tutti, ha detto L'Autaro in zona mista dopo la doppietta siglata al Perù nel terzo e ultimo incontro della fase a gruppi. A volte il pallone non vuole saperne di entrare, adesso sta accadendo il contrario e ci divertiamo, anche nei momenti più delicati ero sempre tranquillo nel dare sempre il massimo per questa maglia. Lo scorso 27 marzo, contro Costa Rica, il numero 10 nerazzurro ha interrotto l'astinenza da gol con l'Argentina durata circa un anno e mezzo. Da quella partita, il classe 97 di Bahia Bianca non si è praticamente mai fermato, due reti al Guatemala prima di scatenarsi in Coppa America, infilando il pallone nella porta di Canada, Cile e infine Peru. L'Autaro è arrivato alla manifestazione continentale dopo una stagione straordinaria con l'Inter, conclusa con la conquista dello Scudetto, il secondo da quando è a Milano, ed è il titolo di capo canoniere della Serie A. Ma pure con problemi alla caviglia che stavano per condurlo in sala operatoria, come da lui confessato sempre in mixed zone dopo l'incontro col Peru. Lautaro confessa, sono stato sul punto di operarmi. Attesa la firma sul rinnovo con l'Inter, sono stato sul punto di operarmi, le parole di Lautaro, la caviglia mi ha fatto soffrire molto e sicuramente inciso sui suoi ultimi mesi della stagione, con le prestazioni dell'attaccante ex Racing andate progressivamente calando proprio in virtù del forte dolore alla caviglia. Ho giocato sotto infiltrazioni, stavo parecchio male ma ho stretto i denti e sono arrivato fino alla fine, ha aggiunto Lautaro che sembra aver superato il problema e scongiurato l'intervento considerato il suo grande rendimento in Copa America. Al termine del torneo il meritato riposo, poi l'inizio di quella che sarà la sua settima stagione in maglia nerazzurra. Nel mezzo l'atteso rinnovo fino a giugno 2029, del resto manca solo la firma sull'accordo da circa 9 milioni netti a stagione più bonus che li consentirà di diventare il calciatore più pagato dell'intera rosa dell'Inter oltre che del massimo campionato italiano.